Parliamo di urbanistica, anche quest'oggi abbiamo ospitato nei nostri studi l'assessore all'urbanistica Alessandro Balzani e il consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Daga, quest'oggi abbiamo con noi Ferdinando Manconi, dottore agronomo e il consigliere comunale di Forza Italia, Anunzio Camerada. Partirei come è fatto proprio ieri con l'assessore Balzani e anche con Ferdinando Manconi dagli aspetti tecnici del PAI, ieri l'assessore ha spiegato l'importanza dell'approvazione di questo piano che è propedeutico, possiamo dire così, al piano di valorizzazione della bonifica. Voi quali sono le critiche, i punti critici che avete messo in evidenza? Sì, innanzitutto ringrazio per l'opportunità offerta dalla CatalanTV di un confronto sui temi dell'urbanistica che sono molto importanti, decisamente sentiti soprattutto in quest'ultimo periodo in città. Se mi permette direttore vorrei innanzitutto sgomberare il campo da alcuni equivoci che sono stati a mio avviso creati ad arte per non far chiarezza invece su alcuni aspetti che invece dovrebbero essere chiari un po' a tutti. Allora innanzitutto fare un passo indietro, il piano di valorizzazione e conservazione della bonifica è uno strumento importantissimo voluto da tutti, ricercato da tutti e soprattutto alla luce dell'ingesamento dell'agro algerese, alla luce del piano paesagistico regionale voluto da Soru e dall'allora consigliere regionale Mario Bruno, oggi sindaco. Il consigliere Daga ieri tra l'altro ha espresso una bellissima metafora che rende perfettamente l'idea, cioè noi abbiamo l'agro sotto una cupola di cristano, non si può fare assolutamente niente, quindi con la delibera dell'assessore Rio del 23 marzo mi pare del 2017, stiamo parlando di circa due anni fa, si è data l'opportunità ad Alghero di dotarsi di uno strumento che non è un PUC, anche se erroneamente viene chiamato il PUC dell'agro, ma è una variante al piano regolatore generale. Ecco, io credo che l'opposizione non possa e non sia capace di arrestare un processo di approvazione di questo strumento urbanistico, perché altrimenti non si chiamerebbe minoranza ma si chiamerebbe maggioranza e questo assolutamente non è possibile. Esistono degli strumenti democratici invece di vigilanza e di controllo sulle attività politiche e guai a chiamarli questi come meri elementi di ostacolo alla politica cittadina. Questo è un grave errore che ci fa ripiombare in anni poco fortunati della nostra Italia e sicuramente non possono stare nella bocca di esponenti di partiti oggi democratici. Quindi, ripeto molto bene, non possiamo guai a scambiare degli strumenti democratici di vigilanza e di controllo sull'attività politica come elementi di ostacolo all'attività amministrativa. Sono due cose completamente diverse. Il piano di valorizzazione subisce degli emendamenti, subisce delle osservazioni che sono per l'appunto ad appannaggio di gruppi politici, gli emendamenti, oppure a tutti i portatori di interesse per quanto riguarda invece le osservazioni. Tutti questi passaggi tra l'altro non hanno influito sull'iter di adozione, ancora ad oggi siamo all'adozione, non all'approvazione, all'adozione dopo due anni del piano di valorizzazione, perché resi inammissibili o comunque sia decretati inammissibili dal punto di vista tecnico. Oggi siamo fermi perché il piano di valorizzazione e conservazione della bonifica è stato uno strumento tra l'altro anche innovativo dal punto di vista metodologico perché ha permesso la cosiddetta copianificazione. Qua significa che Alghero si è seduta allo stesso tavolo con la Regione e con tutti gli enti deputati di volta in volta a dire la propria su questo strumento urbanistico, su questa variante al PRG cittadino. Ecco, ci stupisce allora che dopo l'adozione in Consiglio, dopo un via libera anche dato dalle seconde convocazioni a cui ci ha abituato questa maggioranza, poi la Regione presenti dieci pagine di osservazioni. Oggi il piano di valorizzazione e conservazione della bonifica non è fermo per le opposizioni, è fermo perché la Regione che era seduta allo stesso tavolo con l'amministrazione cittadina ha presentato dieci pagine di osservazioni. Allora vogliamo dire che la Regione sta facendo istruzionismo a questa maggioranza? Non mi sembra proprio. Ecco, cerchiamo di essere seri, cerchiamo di raccontare le cose così come stanno. Tra queste osservazioni, e vengo finalmente alla sua domanda direttore, esiste anche lo strumento di adeguamento al PAI, cioè lo studio di dettaglio. Questo studio di dettaglio riguarda ovviamente tutte quelle norme che regolano e normano il territorio dal punto di vista idraulico e geomorfologico. Il PAI è stato modificato, è stato integrato ancora meglio, dal piano stralcio delle fasce fluviali. Non è uno strumento, anche su questo bisogna fare chiarezza, non è uno strumento supplettivo a una manchevolezza da parte delle amministrazioni comunali. Il piano stralcio delle fasce fluviali è uno strumento conoscitivo di approfondamento che va a integrare il PAI e che riguarda l'intero territorio regionale che è stato diviso in sub-baccini, Alghero fa parte del sub-baccino Coginas-Mannu-Termo, all'interno del quale però, ahimè, è successa una cosa strana. È successo che l'iter avviato nel 2013, si è concluso nel dicembre 2015 e ha portato a una diversa interpretazione del famoso, ormai famoso, canale Urune. Un canale di bonifica che viene considerato la stregua di un fiume. Prendiamo ovviamente il fiume virgolettato, è un corpo idrico. quanto meno, come hanno fatto gli altri comuni, anche il comune dell'amministrazione di Alghero avrebbe dovuto chiedere l'UMI all'autorità di Baccino perché e per come un canale sia stato considerato la stregua di un fiume. Poi avrebbe avuto tutte le risposte più o meno lecite o eventualmente dei cambiamenti. Però questa domanda, questa osservazione che era lecito porre, come hanno fatto tutti gli altri comuni, Alghero non l'ha fatto. Oggi ci troviamo quindi con uno strumento che ci indica dei vincoli che sono realmente dannosi per la nostra collettività, per il nostro agro che come diceva appunto il consigliere Daga può rappresentare un volano per il nostro sviluppo. Le nuove modifiche al PAI promosse dall'amministrazione regionale diciamo che danno una boccata di respiro all'agro riducendo tutte quelle restrizioni, non tutte, parte di quelle restrizioni che erano presenti nelle norme tecniche di attuazione. Però ancora non fanno chiarezza sul perché e sul per come esistono questi vincoli. Era lecito a mio avviso, avviso di molte altre persone, cercare di comprendere ancora meglio questa situazione per renderla più rispondente al territorio, alle esigenze del cittadino. Cioè andare dal cittadino e dire noi stiamo facendo questo perché è così, perché abbiamo queste disposizioni. Oggi queste risposte non si possono dare al cittadino. Si rimbalza la palla, si attribuisce la responsabilità alla regione una volta, una volta al tecnico incaricato per redare lo studio, studio che riguarda anche Sassari dove inizia il canale Orune e dove non sono presenti vincoli. Per quale motivo? Allora ci dicono ma il vaccino idrografico è più ridotto, ma la permeabilità del suolo è diversa. Signori però stiamo pensando, stiamo parlando di un limite amministrativo, non un rilievo, non un qualcosa che faccia da spartiacque, un mero limite amministrativo, una linea tracciata su una carta geografica che determina questo spartiacque politico in cui da una parte un canale non crea assolutamente problemi, dall'altra parte crea e determina la pericolosità più elevata che possa esistere a livello del PAI. Allora come mai non esiste una gradualità? Io non dico che Sassari magari non debba avere le zone HI4, ma perché non c'è HI3, HI2, HI1? Come mai si passa per una semplice linea tracciata su una cartina dal niente al tutto? Ecco io creo che queste siano domande lecite da porre e non si offenda a nessuno quando queste domande vengono rivolte all'amministrazione. Comuncio Camerata, parliamo magari di ospiti più politici, tra l'altro il comitato Zamaninur ha chiesto più volte alla maggioranza di fermarsi un attimo, riflettere, cercare di valutare un po' le osservazioni che sono state fatte, quelle delle quali tra l'altro è esposto anche Ferdinando Manconi, maggioranza che vi ha accusato però voi delle opposizioni, in particolare alcuni consiglieri che hanno presentato un ricorso al TAR di voler bloccare tutto. Tra l'altro leggo brevemente anche un intervento invece di un altro esponente di un comitato, il comitato di Maristella, Tonina De Zogos che ieri ha attaccato proprio il vostro partito, Forza Italia, dicendo dopo lo schiaffone elettorale nazionale che ha visto Forza Italia crollare rovinosamente nei consensi, i rappresentanti locali di Alghero proseguono a non mostrare un minimo di responsabilità nei confronti della città, l'accranimento contro l'approvazione del piano di assetto idrogeologico, strumento necessario per la pianificazione urbanistica, mostra il peggior lato della politica italiana, quello per il quale i calcoli elettorali superano gli interessi collettivi. Poi ci sono altre accuse, anche un po' pesantucce come l'ultima domanda, d'altro canto cosa aspettarsi da coloro che hanno senza vergogna come grande riferimento politico, un pregiudicato pluri prescritto. Innanzitutto una risposta a questo durattacco da parte della Presidente del Comitato di Maristella, poi le valutazioni politiche ovviamente su questi ultimi sviluppi anche. Direttore per Educazione, scusate, le do la risposta, non volevo tenere conto di queste dichiarazioni di una persona che non rappresenta niente, rappresenta se stessa, non rappresenta l'agro, rappresenta una piccola parte dell'agro che tra l'altro grazie al piano di valorizzazione ha dei benefici, nel senso che comunque il PAI di cui ha parlato lo studio di approfondimento del PAI esclude completamente la zona di Maristella, ecco perché questo personaggio ha tutti gli interessi che il piano di valorizzazione vada avanti, perché tanto non hanno problemi. Mi viene da dire che si parla di corde a casa dell'impiccato, parla di una sconfitta elettorale di Forza Italia che comunque fa parte della coalizione in centro-destra che ha vinto purtroppo senza poter raggiungere con oltre i tre punti la possibilità di governare, ma farebbe meglio tacere visto quello che è successo al PD, un PD che ha il governo, un PD che ha il governo della regione e un PD che ha il governo di Alghero, una debacle così non si era mai vista, quindi non so proprio cosa voglia dire, ma entriamo dal punto di vista politico nel merito, tralasciando queste fesserie che le ha appena letto, ci tengo a fare una precisazione, chi mi conosce bene sa che io difficilmente mi presento come enunzio camerata, l'architetto camerata, ci tengo particolarmente in questo caso perché credo che questa laurea che mi sono presa, avendo studiato molti esami di urbanistico, ho fatto anche un atteso in progettazione urbanistica, in questi casi come molte altre volte faccio un amministratore mi è di gran supporto, io ho studiato le carte, ho studiato, non aggiungo niente a quanto il sacrosanto ha già detto Ferriano Mancoi, ma per questo motivo riesco ad avere una visione più completa, sicuramente più completa della signora De Zogos che non so che lavoro faccia, ripeto ho una visione che è anche tecnica di questo problema e ripeto confermo tutto quello che ha detto Ferdinando, ma aggiungo una cosa, come si è detto il PAI è uno strumento indispensabile per tutta la signora pianificatoria e quindi vi faccio un esempio che ho già fatto ma che rende molto l'idea, l'amministrazione di Alghero ha deciso di fare una torta alle mele, ha confezionato la torta alle mele nel marzo del 2017, poi si accorta di non aver messo le mele dentro la torta, quindi ha cercato di mettere le mele a dicembre del 2017 e ancora oggi non sappiamo se queste mele vanno bene o vanno male, insomma un grande pasticcio, un grande pasticcio che noi abbiamo puntualmente e nei tempi giusti e nei momenti giusti sottolineato dicendo quali erano gli errori procedurali, dicendo quali erano i problemi che hanno stati fatti attraverso un utilizzo della cartografia sbagliata, insomma abbiamo fatto il nostro ruolo di opposizione ma collaborativa pregandogli di non fare scelte sbagliate, scelte sbagliate che hanno portato l'amministrazione a spendere del denaro, perché la presa d'atto del PAI che è stata fatta per due volte, la prima volta con dei vizi procedurali ed è la colpa degli uffici, dico anche questa cosa, quando questa amministrazione fa qualcosa che va bene è il merito dei politici, quando c'è qualcosa che non va bene è colpa degli uffici, è sempre colpa loro, non è colpa degli uffici e nel caso anche i meriti sono degli uffici quando le cose vanno bene, è stata forzata ancora una seconda volta, in seconda convocazione questa presa d'atto del PAI e noi dicevamo guardate che stanno arrivando delle modifiche dalla regione, quella regione che ha con loro il filo diretto, mica con noi delle opposizioni o meglio con noi ce le ha, infatti grazie al lavoro dell'onorevole Marco Tedde che la giunta, grazie agli interventi in aula, ha rivisto con la delibera le norme di attuazione del PAI, insomma ci stiamo rendendo conto di una cosa, che si sta forzando, ma veramente forzando la mano su questa variante di piano regolatore, perché è inutile volerla descrivere in un altro modo, parliamo di uno strumento vecchio, obsoleto, tanto criticato da questi che oggi lo utilizzano, che è la variante di PRG, una variante che badate bene prende in esame una gran parte del territorio, quindi non si può pensare di progettare, programmare le azioni urbanistiche della nostra città con una variante, è il PUC che bisogna fare ed è per quello che noi abbiamo sempre insistito che le cose vanno fatte bene, quel PUC che è stato bloccato da persone che questi amministratori conoscono bene, dimettendosi e non permettendo l'adozione nel 2011, cosa emerge da questa cosa? Ve lo direi in maniera proprio esplicita in maniera tale che tutti capiscano, qui c'è un'azione politica forte, c'è un'azione politica del PD, del PD che ha preso in ostaggio il sindaco Mario Bruno, il sindaco Mario Bruno non ha più la maggioranza, non ha una maggioranza, è costretto ad arrivare in seconda convocazione per molte cose e il PD dopo aver perso le elezioni è riuscito ad entrare dalla finestra mettendo sul tavolo una forte richiesta che era l'adozione a tutti i costi del piano di valorizzazione, comunque fosse pieno di pasticci, inapprovabile con tutte le sue complicazioni quelle complicazioni derivanti dal piano paesaggistico di Soru come ha ben ricordato Ferdinando e che oggi crea dei grossi vincoli anche per questo PD che prima si era approvato e oggi ha dei vincoli e c'è questo disegno, il PD entra in maggioranza, richiede che venga approvato di valorizzazione, mette l'assessore Balzani, militante del PD, non era un appoggio esterno, era un appoggio formale, costruttivo, strutturale all'interno della maggioranza, mette l'assessore e poi i corretti dietro le spalle che cercano di sollevare le polemiche, noi non ostruiamo niente, noi non facciamo nessun istruzionismo, noi diamo dei pareri tecnici, supportati, che la regione ci supporta e ci dà ragione, loro che smettano di fare questi giochetti politici, tanto la gente l'ha capito che il PD è un partito finito, stanno solo facendo perdere tempo alla città e tempo a tutti gli agricoltori che avrebbero potuto usufruire dei bandi, dei finanziamenti derivanti dai PSR, ma che stanno finendo grazie al loro immobilismo, al loro modo di fare le cose in maniera pasticciata. In un certo senso poi ieri Daga ha ammesso che tutto sommato il PD è maggioranza, che non è posto l'ascia di guerra, quindi insomma, detto tra le righe però di fatto il PD è maggioranza, quali saranno adesso le prossime mostre di Forza Italia e eventualmente poi anche degli altri partiti di opposizione, come procederete adesso? Dei confronti in che senso? Bene, su questi, insomma, sugli sviluppi, perché adesso con il via libera di fatto al piano di assetto idrogeologico si dovrebbe procedere, forse non ci sono neanche molti spazi di manovra probabilmente. No, non abbiamo assolutamente alcun spazio di manovra, noi siamo minoranza, quindi cosa vuol dire? Che la minoranza non comanda, quindi non capisco come noi minoranza possiamo bloccare dei processi che vanno avanti con la legge e con i numeri. Noi continueremo a controllare. È chiaro che l'autorità di Baccino, abbiamo fatto il pervenire alle nostre osservazioni, quando verrà approvato l'autorità di Baccino c'è il tempo delle osservazioni ufficiali e lì qualora l'autorità di Baccino non abbia fatto a modo il suo dovere, ma noi siamo sicuri che l'autorità di Baccino vedrà bene il proprio parere, che ci darà ragione, noi continueremo a vigilare. Noi non ci opponiamo, non mettiamo i bastini tra le ruote. Noi vogliamo lo sviluppo di questo territorio, ma vogliamo che avvenga in fretta e senza far pasticci. Facendo i pasticci non si può andare avanti, è questo il problema. Noi gli stiamo spiegando in tutti i modi qual è la strada giusta e non la vogliono percorrere. Sinché continueranno così, noi continueremo puntualmente a fargli capire gli errori che stanno facendo. Sino oggi ci siamo riusciti, si arrabbiano, ci insultano, ci indicano in tutti i colori, rilasciano interviste basate sul nulla e noi staremo qui a seguirli. Adesso c'è il PUC poi, in teoria, teoricamente, almeno nelle intenzioni della maggioranza, che è quello di volerlo portare probabilmente in estate. Sì, direttore, mi consente. Io personalmente la vedo dura, poi sono molto giovane, per carità, non ho vissuto le vicende politiche. Mi consente di utilizzare sempre quella mia famosa laurea. Come si fa a fare un PUC? Come si fa a fare un PUC entro l'estate? Abbiamo il piano di utilizzo dei litorali, ancora in alto mare. Ricordatevi che l'utilizzo dei litorali è quel piano che serve a utilizzare i litorali, concessione dei maniali, concessione dei maniali per gli stabilimenti, per gli hotel, per tutti i servizi che ormai una località turistica deve avere. Non se ne parla, quindi sicuramente non per la stagione è iniziata, siamo già alle porte dell'estate, di questo piano se ne parla. Il piano di isolizzazione acustica è importantissimo. Il piano di isolizzazione acustica prevede, lo dico in maniera semplice, tutte le modalità dei rumori, di come viene gestito il rumore nell'ambito di una città. Quindi ci sarà una zona dove poter fare degli spettacoli, che avrà dei valori. La zona residenziale che ne avrà altri, la zona dove avrà magari una discoteca che ne avrà altri. In alto mare, non senza più nulla di questo piano. E così via. Non parliamo poi appunto del piano, della variante per quanto riguarda l'agro del Ghero. Mi fa sorridere, mi fa sorridere come se io vedessi un cuoco in un ristorante che mi dice sì guardate tra un minuto io servo a tavola ancora non ha fatto la spesa. Cioè stiamo parlando di queste cose. continuano a fare dei proclami, a cercare di mettersi delle medaglie, ma la gente l'ha capito, basta, la politica non si fa su Facebook, non si fa sui giornali, la politica si fa negli uffici, lavorando, si fa in aula, ci si riunisce, si discute in commissione, questo è far politica. Il resto sono perdita di tempo e stiamo assistendo a delle perdite di tempo.